Siamo nel teatro Quirino a Roma, è appena terminata la manifestazione, il presidio del sindacato Snadir, il primo sindacato dei docenti di religione, di nuovo oggi in piazza anche di fronte a Viale Trastevere a Roma. Abbiamo qui Orazio Ruscica che è il segretario generale Snadir a cui chiediamo i motivi di questa ennesima protesta contro l'operato del Ministero e se vogliamo anche del governo Ruscica, vero? Sì, contro un governo che ha ritenuto inammissibili degli emendamenti che davano una giusta risposta alle legittime aspettative dei docenti di religione, quindi hanno dichiarato noi siamo contrari a questo governo che ha ritenuto illegittimi questo emendamento, un emendamento che da parte del governo, della maggioranza che introduceva ciò che chiediamo da anni, cioè una procedura straordinaria non selettiva per coloro che hanno 36 mesi di servizio e la trasformazione poi dopo il triennio in graduatoria ad esaurimento. Un emendamento che davvero dava una risposta definitiva ai precari che insegnano la religione e che invece questo governo in modo illegittimo ha ritenuto inammissibile. Noi non ci stiamo, noi romperemo questo silenzio in cui ci vuole costringere questo governo. Noi diremo sempre con forza no al precariato, sì alla stabilizzazione dei docenti di religione. Lucica sono ormai 17 anni che non c'è un concorso, che poi è stato l'unico concorso, fu bandito nel 2004 se non erro, mi sembra ci siano ancora degli idonei non assunti di quel concorso. Sì effettivamente ci sono circa 1250 idonei, l'altra proprio perché ci sono ancora questi docenti in graduatoria del 2004 noi chiediamo anche, oltre a quello che ho detto poc'anzi, che ci sia lo scorrimento di questa graduatoria fino al totale esaurimento. Perché bisogna dare anche a questi colleghi che hanno 30 anni di servizio la possibilità di entrare in ruolo e di venersi riconosciuta la legittima aspettativa di essere messi in ruolo. Le risulta che ci sono nel frattempo dei docenti di religione che sono andati in pensione da precari? Sì, diversi docenti di religione sono andati in pensione da precari e questo dimostra come la quota del 30% sia una quota da eliminare perché non è possibile immaginare che nel 2021 ancora si stabilisca che una quota per legge possa rimanere precaria a vita. Noi vogliamo che gli insegnanti di religione vengano assunti a tempo indeterminato, siano assunti in ruolo come tutti gli altri precari della scuola italiana. Su questo punto lo scorso mese di dicembre c'è stato un accordo, c'è il Ministero dell'Istruzione che prevede una parte, una percentuale dei costi del concorso che venga riservata ai precari storici di religione. Perché non vi basta quell'accordo? Perché semplicemente è un'intesa che formalizza un articolo 1 bis ingiusto e iniquo perché non si è mai visto per i precari con oltre 36 mesi di servizio nel mondo della scuola una quota riservata. Si è sempre proceduto per tutti i docenti precari con oltre 36 mesi con delle procedure straordinarie. Invece per gli insegnanti di religione a motivo proprio del fatto che insegna una religione vengono discriminati e viene data a loro soltanto una possibilità, concorso ordinario. Noi di fronte a questa discriminazione non ci stiamo, lo gridiamo forte e questa discriminazione lo deve capire il governo, la Corte di Giustizia europea lo dirà forte, ci sarà una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia perché il Procuratore generale della Corte di Giustizia europea ha già riconosciuto che gli insegnanti di religione precari sono stati penalizzati a motivo del fatto che insegnano la religione. Noi non ci stiamo. Quanti sono interessati a questo discorso dei 36 mesi secondo le vostre stime? Secondo il nostro ufficio statistico dovrebbero essere sui 13.500 docenti interessati con oltre 36 mesi sul totale di 15.000 docenti. Un'ultima domanda, cosa rispondiamo a tutti quelli che dicono che sarebbe una procedura riservata come quasi un favoritismo rispetto ai docenti curricolari? No, non è una procedura riservata solo a loro. Noi stiamo dicendo, avete fatto, voi Stato, i precedenti governi hanno fatto delle procedure straordinarie per coloro che hanno 36 mesi di servizio, fate la stessa cosa per noi. Noi non vogliamo privilegi, vogliamo stesso trattamento, penalizzazioni no. Se non dovesse andare avanti e procedere l'emendamento che avete chiesto e quindi essere accordato alla Camera riguardo il sostegno IBIS, avete intenzione di continuare con la protesta? Sì, sì, noi non intredeggeremo di un millimetro, noi proseguiremo la nostra protesta. Noi siamo qui ogni giorno, ogni settimana a ricordare a questo Parlamento, a questo governo che occorre dare una risposta ai docenti di religione precaria. Bene, grazie. Orazio di uscita, segretario generale Snadir. Grazie a voi.